10 cose che forse non sai su Squid Game, sigla! Come è nato Squid Game? Ang Dong-hyuk, l'autore della serie, ha detto di essersi ispirato alla propria vita per crearla. Quando ha iniziato a scrivere le prime puntate, infatti, si trovava sommerso dai debiti e non trovava il modo di uscire da quella brutta situazione. L'amicizia tra i protagonisti. Il legame che si vede sullo schermo tra Seon-gyun e Cho Sang-ho è vero perché il regista ha voluto che i due si frequentassero realmente anche al di fuori del set. L'obiettivo era restituire una fedele alchimia tra i due, i Dal-gona. Tutta la puntata dedicata a questi biscotti è diventata un cult, tanto che in Corea la richiesta per questi biscotti è aumentata in modo vertiginoso. Scene improvvisate. Siccome molti membri del cast hanno mostrato fin da subito un forte affiatamento tra di loro, il regista ha lasciato ben volentieri che questi interagissero tra di loro nel modo più naturale possibile. Il risultato? Moltissime scene sono improvvisate. Quali? Non ne ho idea. Abiti di scena. L'attore che interpreta Ali è talmente entusiasta del suo vestito con numero 199 e della possibilità che gli è stata concessa di registrare, di recitare in questa serie, che ha deciso di portarsi a casa gli abiti di scena. La mania per le Vans. Con l'inizio e il successo della serie, tutti sono impazziti per le Vans bianche indossate dai partecipanti allo Squid Game. Pensate che le vendite di questo modello di scarpe sono aumentate del 7800% dopo che è uscito Squid Game e le ricerche su Google per questo modello del 97%. Sono praticamente diventate a tutti gli effetti un oggetto cult, il ponte di vetro. Il ponte di vetro, protagonista di uno degli episodi più sadici, penso, di tutto Squid Game, è stato ricreato in modo che anche gli attori percepissero il pericolo di questa scena. Il regista infatti voleva che gli attori percepissero, per quanto possibile, il pericolo di una possibile caduta. Ovviamente al di sotto di loro non c'era uno strapiombo, bensì un dislivello di circa un metro e mezzo. Il numero del biglietto da visita. Il numero di telefono che compare sul biglietto da visita dello Squid Game, bene sì, l'avete capito, esiste davvero. Appartiene a un cittadino coreano che dopo l'uscita di Squid Game ha ricevuto migliaia e migliaia di telefonate. Il colore delle tute. Come mai sono stati scelti il verde e rosa per le tute indossate dai protagonisti e dagli aguzzini di Squid Game? Le tute verdi dei giocatori alludono alla loro totale perdita di personalità. Finiscono di essere delle persone per diventare dei meri numeri. Il regista inoltre ha precisato che questo colore gli ricordava quello delle divise che si utilizzavano a scuola durante l'ora di educazione fisica. Il colore rosa invece ci restituisce un'idea di purezza, di innocenza. Eppure sappiamo bene chi indossa queste tute. Ecco, questa è stata una contraddizione voluta proprio dal regista allo scopo di inquietarci ancora di più. Gli indizi di Squid Game. La serie aveva sparso qua e là alcuni indizi relativi al fatto che, come scopriamo nel finale della serie, il partecipante numero uno era in realtà uno dei VIP, il creatore del gioco, che aveva deciso di prendervi direttamente parte. Quali sono questi indizi? Vi invito a scoprirlo. Anzi, forse c'è anche un bel video a riguardo qua su YouTube. Non mi ricordo più di chi. Bene, queste erano dieci cose che forse non sapevate su Squid Game. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like. Lasciatemi un commento anche qua sotto. E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere avvisati ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione, ragazzi, e darvi appuntamento ai prossimi video, sempre qui su Fro The Looking Glass, mi raccomando. Ciao a tutti!